Ciao tesori miei, bentornati nel mio canale e benvenuti nel video, forse il video più aspettato di questo mese. Sto per fare insieme alla mia ragazza la sorpresa a Zoe. È notte, siamo pronte, togliamo, scopriamo. Allora, Zoe sta... Mannecciata. Comunque, qui abbiamo tutti i regali e ora... Portiamo tutto di là, ok. Lei è qui che dorme. Ci siamo? Questa è la sorpresa, solo che ora lo dobbiamo dare. È proprio la tenda, scavotto. È la tenda, è la tenda. Adut assembly required, quindi mi rispiavi quando... No, 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 no. Mi ricordo un po' la scena di Alice in the... Nel paese delle terapiglie. Ciao. Ciao, amore. Insert hand of the pole into metal joints. Ah. Eh, ma questa non... Amore. Eh. Ah, sì. Oh. Da dentro, sì. Oh, ma sono staccati. Ah, ma sono tanti. Ah, io pensavo fossi uno solo. Ok, allora, oltre a mette. Ok. E tu? Ma hanno il cerchio, però. Aspetta, un attimo. No, si vanno con tutto io. Sono doveva sbottare il rumore. Le bambine stanno dormendo adesso, quindi... Mantieni quello tu e io vi lo uso. Sì. Aspetta, non vanno qua. Sì, come va. Sì, come va. Il mio volum è diritti di autore. Guarda quanta passione ci metti tu nelle cose. Veramente nessuno. Un attimo che torna da Larnia. E ci spiega cosa sta succedendo là dentro. Eh. 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 Eh, 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 eh. Ti piace? Perché tu non giravi? Ah! E poi sì. No, però. Ecco qui. Maronna, mi sei girata. No! Non ci ho fatto pure uno. Ecco qua. Ecco qua. Ok, vai. Sì. Amore. 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 Amore un attimo. Perché qua si parla delito di morte. Sicuramente. Amore. Amore. Oh mio figlio. C'è più il potere. Cioè immaginate di Zoe che domani mattinai arriva e trova Non mi gustava Un pennacchio Perché un pennacchio? Ma non è Ma che mi rappresenta Una bandiera Ma che si regge Abbiamo un concetto di bandiera diverso Questo è sicuro Come si era retto Perché con me Dopo questa me ne va Mi amami Mi amami ora come mai Mi amami Mi amami Allora fermi tutti Cioè voi Certo diretto Certo diretto gancio Comunque Mettila tutte le extension Comunque Cioè voi immaginatevi domani mattina Zoe che apre La porta E Esco io No ma ti prego è bellissimo È bellissimo Dammi la telecamera Mi sa più per dare Una tramviata in bacio Ma è bellissimo qua dentro Cioè è stupendo Te l'ho detto perché avrei portato un castello Abbiamo un concetto diverso di castello Comunque dicevamo È molto bello qua dentro Davvero molto confortevole Sono molto confortevole Davvero la cosa più bella Che potessi regalare alle mie figlie Ciao Oscar Sede Cazzo Sede Oscar non piacciono i palloncini Non piace quando vengono confiati i palloncini Quindi Oscar Eri Dio che bello È stupendo Ok Buonanotte Vi vediamo domani mattina Con la sorpresa Cioè con la reazione di Zola Alla sorpresa Grazie Buonanotte E buongiorno Buongiorno Ciao festeggiata Auguri mami Tanti auguri A Zoe Tanti auguri A Zoe Tanti auguri A Zoe Tanti auguri A Zoe Ma per un po' dobbiamo andare a festeggiare il suo compleanno da una tazza Sì Ma prima Zoe C'è una sorpresa per te di là Sei pronta? Andiamo Non è pronta Ma qual è una sorpresa? Ora la vedi Guarda Guarda Che c'è E' una sorpresa per te di là voglio vedere che cosa c'è il frigo in frigo ah di frigo vediamo oh che bello quelli che ti vedi alla tv si non pensavo è il sogno di Hop eh si amore il sogno di Hop esatto è proprio così che si chiama il libro come fa a leggere? ok ti piace? si tantissimo ci sono anche altri regali però scegli in un altro da aprire lo metto qua lo metto sopra non so che fare quale regalo vuoi aprire? voglio ma lei va che è sempre la belli rosa vieni vieni con la mamma e dopo il tuo caricello e dopo questo rosa e dopo quello giallo ma bene mamma quanti regali quello lì è tu non so si ok che cosa ci sarà mai qua dentro? cos'è? amore tu non la vedi la pacchetta è una pacchetta magica questa fa i suoni le luci è una vera pacchetta magica ti piace? grazie mille non so qual è il bezzo guarda apri gli altri regali vai tieni tieni se l'accesso oh io questo non vedo l'ora ti ricordi che tu mi sei apprezzato che sei una sirena? qua c'è la coda da sirena questa è una coperta coda di sirena pensavo che era un po' più piccola coda di sirena si non ti devi più mettere nel cuscino ti puoi infilare metti i piedini non ti devi più mettere nel cuscino per diventare una sirena metti dal lato piede ok sei pure bella calda ecco ecco amo sei una sirena e puoi anche camminare che bella sirenetta ti piace? si mi piace Zoe c'è un indizio su questa guarda 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 lo voglio lo voglio aprirlo lo voglio aprirlo Oscar Oscar lo voglio aprirlo con la zona ma lo voglio tutto ma lo voglio tutto e poi se vuoi tutto Zoe però ti stai appoggiando tu asce col regalo mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia è proprio carina è proprio carino ma sei la sua mamma ma non sai che lui cammina? eh si guarda anche il pizzaio e cammina? così almeno non fai vita pesante questo? questo è un po' pesante chiuso benissimo i miei pacchetti sono eccezionali mamma io e lei voglio sempre giocare alla dottoressa ma lei mi faceva con le dita ma mi misurava con le dita e adesso hai gli strumenti adatti ma questo è che? è la cottura in tappeggiani si è la veterinaria il lavoro che vuole fare da grande esatto il lavoro che vuole fare Inaia vedi un po' vedi ti affido vedi un po' grazie vedi amore grazie mamma mia c'è la città ma c'è dentro come taglierino eh ho capito eh ok guarda un po' è proprio una valigetta del denario ma c'è anche un cagnolino guarda è carino è piccolo piccolo guarda quanti accessori guarda lo voglio aprire si aspetta eh guarda ma quante cose quante cose ah gli adesivi quelli bisogna metterli dopo li metti tu aiuti Lara io si oh pure gli occhiali oh come siamo belli dottoressa dottoressa buonasera prego faccia la puntura eh vada faccia la puntura guarda guarda c'è il set allara allara vai ma vediamo se hai un ultimo paziente vedi un po' l'ultimo regalo di un po' potrebbe essere una cosa che è carina la cosa sulla quale sono convinta di meno cioè che ho preso perché mi piaceva a me ma non perché pensavo cioè ho preso tutto che mi pedeva poi il regalo vediamo zoe apri l'ultimo regalo vediamo un po' posiamo le cose e cerchiamo zoe il regalo no il dice troppo zozo ci manca un pezzo però là questo va così questo è per farlo mangiare e questo? mh così ci sono le istruzioni dove si sente il cuore bellissimo zoe vedi un po' qua dentro chi ci sta mettimi le cuffie mettimi le cuffie e devo sentire questo pezzo si chiama spigmomanometro vabbè adesso coso cuffie a quattro anni devo dire vabbè ci sta capito amore uno stick come a te quello quello hai visto? ma questo c'è la barra di rina mi sa di sì si accende si accende tutto guarda se io faccio così per il misuramento termometro amore zoe non ti sbagliare che quello non è tanto più grande di oscar come è 39 una volta ha fame zoe va vuoi aprire l'alcalangelo regalo? ce n'è un altro l'ultimo regalo l'ultimo regalo guarda la carta dai l'ultimo l'ultimo deve tagliargli una zappa prima mi piace molto vabbè è rimasto a forza una uova vabbola ti piace? lo voglio aprirlo ciao guarda che città lei si chiama Trilli wow guarda che buona sì ti piace? sì è molto simpatica e buona può essere una vera brava amica lei sarà la mia amica ok così per nulla a caso stava bene i bambini stava bene giuro si è svegliata che stava bene dottoressa buongiorno accendiamo il battito di Trilli non è la ci pesso? è vero è viva è viva vabbè no hai un problema ancora è un pezzo non mi sono fortunata che chiudesti? se vuole chiudere? sì aspetta eh voglio chiudere arrivederlo ciao Zoe ciao mamma me l'ho fatta una è la zampa è la zampa oddio 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 ma questa è la zampa barbile che tu ti ho detto sì e poi anche due colore di line di squishy sì devo farsi una puntura oh oh no 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 aiuto dottoressa tornite un po' aiuto aiuto lo sai lo trovo vede me ringrazio francesca francesca alla fine è deciso di darle il suo regalo qui a casa grazie sopì 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 mi piace amore si sopì aiuto sopì adesso alla mia sopì amore questo regalo è molto bello sopì è cresciuta è cresciuta grazie amore aspettate ora la abbracci che cosa è stato vedo tutto quanto vedi ma ti dico che bello io vedo becetto sei un picchietto bello non mi va con la mia bambola wow è un altro che un po' giallo